un saluto speciale al grandissimo girovago aldo di baggio mitico aldo grandissimo poeta e pittore che ho grande rispetto e ammirazione e adesso sono qui a farmi una bella passeggiata con due sotto zero c'è giù una bella brinata qui nel prato e guardate qui anche qui ci sono i campi coltivati che adesso abbia adesso non c'è niente di coltivato però c'è giù una brina da far paura comunque vi sto facendo una bellissima passeggiata al freddo che comunque si dice c'è un famoso detto che dice camminando al freddo la salute ringrazia guardate qui che bellissimo sole che sorge stamattina c'è un bellissimo sole guardate qui qui sono in una zona di campagna qui c'è il palazzetto della Yamamei di Busto Arsizio dove gioca la serie A pallavolo qui c'è una bellissima casa e qui sono le strade che portano altre zone di Busto Arsizio guardate la bellezza della mattina con la brina con due sotto zero che dire passeggiare per prima cosa fa benissimo alla salute e anche al freddo come si dice tempra il fisico e lo spirito guardate la bellezza di questo prato brinato e come si dice e poi comunque come dice grandissimo Aldo passeggiare è un toccasana guardate qua guardate qua che brinata pazzesca questo video lo dedico anche a quelli poltroni che stanno sempre a bere il caffè inglese a bere il tè non il caffè inglese il tè inglese col biscottini magari con la mogliettina a fianco come dire cioè a star seduti non si ottiene niente nella vita quindi tanto movimento tanta salute vediamo qua qui c'è un campo brinato anche qua guardate quanta brina che c'è giù e il mio motto è sempre camminate 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 se volete stare in salute è inutile che che vi riempite di vitamini integratori di sostanze per stare in piedi se poi non camminate basta vedere l'aldo lui non prende niente cammina è forte come un toro guardate qua guardate qua e questo video lo dedico anche lui che è un grandissimo girovago dovete fare tutti come fa l'aldo che va a passeggio l'aldo è l'inno alla salute lui sempre va sempre a passeggio sempre in ottima salute invece a stare seduti sulla poltrona guarda la televisione vi indebolite il sistema nervoso e il fisico guardate qua vabbè qui ci sono altre case villette sto facendo una passeggiata visto col tempo stamattina ma qui c'è una villetta c'è uno scogliattolo uno scogliattolo è scappato via allora qua lo scogliattolo guarda qua lo scogliattolo e ora se riesco a riprenderlo scogliato no è andato via non so se si vede nel video ho ripreso anche uno scogliattolo e qui tutta la zona che porta al parco alto milanese qui zona di campagna fa un freddo pazzesco ma ma per la salute è ottimale guardate che bello sole che sorge al mattino mamma mia ci bacia le nostre menti le nostre guancio va che bello che bello solo che bacio di prima mattina è stupendo guardate qua ho le mani un po gelata ma non importa questo video lo faccio molto volentieri per il grande girovo goaldo che è un grandissimo camminatore e bisogna sempre camminare camminare perché fa bene alla salute fa bene alla salute tiene la pressione a livelli eccezionali giusti fa bene al cuore fa bene la mente e lo spirito e poi chi cammina sempre non rischia neanche di prendere il diabete non c'è cosa peggiore che stare sedentare la sedentarietà è un'ammazzata ti rovina la salute la mente ti rovina tutto quindi è rivolto anche ai sedentari muovete le gambe muovete le gambe se volete stare in salute fino a 100 anni saluti al aldo e tutti i suoi amici che lo seguono alessandro dimitrios tutti quelli che gli vogliono bene ciao ciao a tutti